Settima edizione di Musica in Cortile, un appuntamento ormai consolidato per il calendario delle manifestazioni estive a basso. Ne parliamo con l'organizzatore dell'evento Nando Micione. Allora, tanti gli ospiti per questa edizione. Ornella Vanoni per citarne soltanto qualcuno. Ovviamente i tempi di crisi non possono passare inosservati, ma grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale, che ringrazio perché magari in questo momento ha dovuto sostenere la rassegna. Grazie al contributo degli sponsor, anche quest'anno siamo riusciti a mantenere alto il livello di una rassegna ormai consolidata. Abbiamo anticipato l'apertura della rassegna proprio con un grande evento, che è quello del concerto con Ornella Vanoni, che aprirà appunto questa rassegna, alla quale seguiranno quest'anno altri cinque. Sono sei in totale, appuntamenti che spaziano come al solito dalla musica pop al jazz e alla danza. Ci tengo a precisare anche gli appuntamenti con il tango, con il flamenco e con la danza che vedrà appunto Raffaele Paganini per l'occasione, accompagnato da tre straordinari ballerini di Ballando con le stelle. Musica in cortile non poteva non ospitare anche quest'anno il jazz, e lo fa alla grande con Roberto Gatto, che è uno dei migliori batteristi europei, per l'occasione con una special guest d'eccezione che è Simona Molinari. Ci sarà anche spazio per il flamenco? Quest'anno, dopo tre anni, ritorna il flamenco vero e proprio, uno spettacolo interamente di flamenco, e l'abbiamo fatto con una delle compagnie migliori in assoluto a livello nazionale, composta anche da ballerini e musicisti andalusi, quindi una compagnia composta da 12 elementi che il 7 agosto delizierà gli spettatori di musica in cortile.